Ci ha raggiunti qui nello studio il secondo ospite di questa puntata. Diamo il benvenuto al patrimonio italiano so all'onorevole Christian Di Sanzio, deputato eletto nella circoscrizione Centro e Nord America. Bentornato onorevole. Grazie, è un piacere essere qui in questo nuovo studio virtuale, è un piacere. Onorevole, è stato questo un periodo molto caldo, tantissimi impegni, l'abbiamo vista al di là dell'oceano in Canada e negli Stati Uniti, per tantissimi impegni istituzionali, l'ultimo dei quali quello col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Esattamente, sono tornato proprio ieri da un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un incontro con la comunità italiana e siamo molto felici che il Presidente nella sua agenda, che era a New York per la visita e il discorso alle Nazioni Unite, un discorso molto bello, abbia trovato il tempo di incontrare la comunità italiana e il gruppo esponente italiani che gli ha consegnato un riconoscimento, un premio. Quindi è stato un momento molto bello per tutti noi italiani all'estero e poi ovviamente è stato un grande onore essere alle Nazioni Unite ad ascoltare il discorso del Presidente. Non sono mancati poi eventi organizzati da associazioni e soprattutto dai comites molto attivi, quelli del Nord e Centro America. Assolutamente sì, sono stato a Montreal per la festa dell'avvererazione, per un incontro con il Comites di Montreal, in cui abbiamo parlato proprio dei problemi dei cittadini italiani all'estero, primo fra tutti dalla comunità di Montreal, molto sentito il problema del riacquisto della cittadinanza, ma ovviamente anche il problema dei servizi consolari che ancora oggi non trovano la soddisfazione perché spesso la domanda rimane sempre maggiore dell'offerta e su questo stiamo lavorando, devo dire, da quando sono stato eletto su come potenziare i servizi consolari, sia attraverso vari emendamenti che abbiamo passato in legge di bilancio, sia attraverso il riadeguamento salariale del personale al contratto. Oltre a Montreal sono stato a Houston per l'evento della giornata della ricerca italiana nel mondo, un grande evento in cui abbiamo riconosciuto i nostri ricercatori italiani perché col terra dare quello che è non solo un riconoscimento ma una valorizzazione del lavoro che fanno tanti ricercatori italiani nel Nord America, ma in generale nel mondo, diventa poi veramente importante anche per cercare di ricostruire quel ponte con l'Italia. Infine volevo citare anche l'anniversario di Giovanni da Verazzano a New York, sono stati 500 anni dalla scoperta della Baglia di New York, a parte di Giovanni da Verazzano un italiano di greve inchianti, quindi è stato un bellissimo incontro della comunità italiana davanti alla statua di Giovanni da Verazzano, è venuto anche il presidente della Toscana Eugenio Gianni, c'era anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e quindi quello è stato un momento assolutamente importante a cui appunto abbiamo poi assistito al documentario di Alan Friedman sulla figura di Giovanni da Verazzano e infine il gala di New York della NIAF dove sono state premiate alcune delle personalità più importanti come Scissura, Monica Mandelli che è Global Manager KKR e Giuseppina Di Foggia di Terna. Prima di salutarci andiamo a vedere il servizio su un evento che l'ha vista protagonista. Ciao, buonasera a tutti, benvenuti soprattutto. Mi fa piacere vedervi e parlare ai vostri utenti, alla vostra audience. Un traguardo non diciamo incredibile perché in questi anni di attività certificano la qualità di Learn Italy e un traguardo che coincide poi anche con la settima edizione dell'International Business Care Award. Sì, il traguardo coincide precisamente con il mese di febbraio del 2009, quindi 15 anni, sono molto felice dei risultati raggiunti. Poi abbiamo iniziato con Business Care che ha poi creato a sua volta questo premio che avrà nella settima edizione premiati illustri come il nostro Ministro degli Esteri, giornalisti famosi, direttore generale dell'informazione Mediaset, insomma Mario Martone e altre persone che mi perdoneranno se dimentico. Un legame sempre più forte con gli Stati Uniti, questo l'abbiamo visto anche durante la conferenza con ospiti di rilievo. Cito Silvana Mangione in quanto rappresentante della comunità Stato in utenza di New York, nello specifico l'On. Di Sanso, insomma comunque un parterre che certifica appunto questo grande legame con gli Stati Uniti. Sì, beh il fatto che ci sia appunto stato il direttore di Rai Italia, il presidente, il segretario generale di Dante Alighieri, Silvana Mangione in rappresentanza delle istituzioni new yorkesi qui, l'On. Di Sanso, l'On. Ottaviano eccetera, mi dà la conferma che stiamo facendo bene. Allora le chiedo un saluto ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV e ai nostri italiani all'estero. Perfetto, allora comincerei dai vostri a Napoli penso, no? Giusto? Tutto il mondo, fantastico. Napoli, saluto i napoletani in modo particolare e saluto in tutto il mondo i vostri ascoltatori. So che andate forti, ogni tanto mi è capitato di vedere quello che fate, complimenti per quello che fate. Per i nostri connazionali all'estero li amo, punto. Con il professore Alessandro Masi è sempre un piacere essere presente a questi eventi culturali che diffondono l'italianità nel mondo, professore. Davvero, sono un'occasione unica per noi, anche per la Dante Alighieri, di promuovere il sistema Italia. Con Learn Italy, Massimo Veccia ha inaugurato una stagione nuova in cui le eccellenze italiane vengono segnalate, il premio in fondo è una segnalazione, è un indicatore di qualità a tutta la nostra comunità e questo è importante. Professore, le prossime iniziative, proprio quelle nell'immediato della società Dante Alighieri, quanto a cultura e diffusione della lingua italiana nel mondo, insomma, credo che non siate secondi a nessuno. Abbiamo 400 di comitati nel mondo, abbiamo 350 centri di certificazione, adesso sta nascendo anche tutta la rete delle scuole di italiano nel mondo, oltre alla piattaforma, credo che c'è nel paniere parecchia roba, da scegliere, da vedere, da selezionare. Allora, le chiedo un saluto agli italiani nel mondo e ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Sicuramente non un saluto, neanche un arrivederci, ma vediamoci presto, perché con la Dante noi ci siamo, voi ci siete, si tratta soltanto di trovare l'occasione giusta e questa oggi è la Camera, sicuramente una di quelle. 15 anni di Learn Italy, la creatura di Massimo Veccia, un'iniziativa molto importante celebrata alla Camera. Assolutamente sì, un evento di riconoscimento del lavoro di Learn Italy, che da tempo lavora nell'internazionalizzazione delle imprese italiane e anche, insomma, celebrare e ricordare quello che poi sarà il Business Care Award che si svolgerà a ottobre, a cui tra l'altro l'anno scorso, ottobre scorso, ho avuto il piacere di introdurlo al Consolato Generale d'Italia New York, quindi introdurre proprio l'edizione New Yorkese del premio e spero che quindi sia una cosa che possa proseguire, andare avanti negli anni, proprio per riconoscere le nostre eccellenze italiane nel mondo. Onorevole, qui a Patrimonio Italiano TV c'è un costante filo diretto con tutti gli italiani nel mondo e proprio qui noi raccoglieremo le istanze dei nostri telespettatori in una sorta di dialogo a distanza, in questa nostra sorta di innovativa e anche un po' folle, nuova forma di comunicazione. Sempre a disposizione, sarà un grande piacere anche e soprattutto rispondere alle domande dei cittadini dal Nord America ma anche da tutto il mondo e sarà veramente un piacere farlo insieme a voi. Perfetto, onorevole, siamo felici della sua disponibilità, lo saranno sicuramente i tanti italiani residenti all'estero, soprattutto nella circoscrizione Centro e Nord America, quindi le diamo appuntamento alle prossime puntate, intanto la ringraziamo per la sua presenza.